Presidente, una vezzano essenziale, pragmatico, che ha giocato una gara in crescendo e ha vinto con merito? Aggettivi che confermano la volontà di un gruppo che vuole risalire la china, fare un campionato di vertice. Abbiamo i mezzi per stare tra le prime cinque del campionato, l'ho sempre detto, mi ero stancato però di affermare che la squadra gioca bene solo fino agli ultimi 16 metri. Oggi invece abbiamo dimostrato di essere stati cinici e concreti negli ultimi 16 metri e determinati, vedi le palle spazzate anche fuori, per puntare ad una vittoria necessaria che anche dal punto di vista del morale, in occasione anche di quello che sarà il recupero tra pochi giorni, mercoledì 27 contro l'Agnonese, ci mette nella condizione di scendere in campo in Molise con la stessa voglia, la stessa determinazione. Io non ci faccio niente di una vittoria, una stagione si costruisce con una serie di risultati positivi e speriamo che questo gruppo si metta in testa di tornare a macinare punti domenica dopo domenica. Ad Avezzano dicevano la punta, la punta, è esploso questo ragazzo del 96. Noi la punta l'abbiamo presa, non abbiamo preso un giocatore da 3.000 euro al mese o più di rimborso, abbiamo preso uno di prospettiva, viene di curso dalle giovanili dal primavera della Fiorentina. Una piazza come la nostra, delle nostre dimensioni, senza grandi mezzi economici, con le industrie che ci sono dietro, può soltanto puntare ad una crescita dei giovani, ma noi la facciamo sul serio, noi abbiamo dei convitti dove i ragazzi non pagano nulla, non solo della prima squadra ci mancherebbe, ma anche del settore giovanile. Questo ha dimostrazione che c'è un obiettivo chiaro di ritornare tra i professionisti entro il centenario, ovvero entro il 2019.